Pretendeva di assolvere l'obbligo di firma l'autorità giudiziaria aggiungendo in caserma Librino con largo anticipo senza rispettare le prescrizioni imposte nell'ordinanza del giudice, invitato dal carabiniere di servizio a ripresentarsi all'orario stabilito e andato in escandescenza prendendo a pugni la porta dell'ingresso della caserma e aggredendo alcuni militari intervenuti per riportarlo alla calma. A finire in manette un pregiudicato catanese di 44 anni Maurizio Zuccarà ritenuto responsabile di resistenza a pubblico ufficiale. L'arrestato è stato rinchiuso in camera di sicurezza dove attenderà il giudizio per direttissima.